Non posso non ricordare con grande dolore Le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi a largo di Lampedusa Mi viene la parola vergogna È una vergogna Preghiamo insieme Dio Per chi ha perso la vita Uomini, donne, bambini Per i familiari e per tutti i profumi Uniamo i nostri sforzi Perché non si rispettano simili tragedie Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirli Grazie 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 Grazie